Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. Si aggrava la situazione nello Sri Lanka. La crisi economica si sta trasformando in una crisi sociale che ha delle ripercussioni anche nel contesto della politica. La decisione da parte del governo dello Sri Lanka di andare nella direzione di modificare i sistemi di produzione agricola nella direzione bio ha mostrato come molti errori siano stati fatti e di conseguenza i raccolti in questo momento storico si trovano in grande difficoltà soprattutto si teme di perderne il 50%. Tutto questo impone al governo dello Sri Lanka di andare nella direzione di importare beni alimentari in particolare riso dall'estero andando a incidere però fortemente su quella che è la liquidità del paese stesso in un momento in cui si trova ad affrontare tutte quelle conseguenze provocate dalle scelte prese per tentare di limitare la pandemia di coronavirus a partire dal 2020. Lo Sri Lanka si trova ad affrontare quindi una situazione particolarmente difficile, una situazione di una crisi economica che colpisce duramente il paese così come quella di una crisi alimentare provocata anche da errori interni. In questo momento le problematiche come detto si mostrano e stanno andando nella direzione anche delle proteste. Sono molte le proteste che stanno caratterizzando queste giornate al punto tale da imporre il coprifuoco nel paese. Contemporaneamente la politica si muove e la volontà è quella di andare nella direzione di un governo di unità nazionale ma il presidente dello Sri Lanka Gotapaya Rajapaska non intendere recedere dal suo incarico. Un eventuale governo di unità nazionale di conseguenza viene già messo in questo momento in grave pregiudizio perché le forze politiche che caratterizzano il panorama nel contesto dello Sri Lanka non accettano di andare nella direzione di un governo di unità nazionale se Rajapaska non darà le dimissioni. Problemi che nel frattempo si mostrano anche nella direzione della sempre più importante dipendenza dagli aiuti che allo Sri Lanka arrivano da India e Cina. In particolare dalla Repubblica Popolare Cinese che ha concesso un prestito di 2 miliardi e mezzo di dollari che va ad aggiungersi ai precedenti 5 assegnati. Ma contemporaneamente da parte cinese gli interessi sulla portualità dello Sri Lanka sono assolutamente fondamentali importanti soprattutto nelle strategie della geopolitica del governo di Pechino. L'India guarda e guarda con grande preoccupazione perché la presenza cinese nello Sri Lanka non piace assolutamente al governo di Modi che contemporaneamente però mantiene con lo stesso Sri Lanka dei rapporti sostanzialmente importanti proprio in una chiave anticinese. Lo Sri Lanka paese che in questo momento si trovano ad avere una grande difficoltà in ambito interno si trova ad essere anche fondamentale negli assetti strategici geopolitici soprattutto tra i due giganti India e Cina. Per oggi questo è tutto.